Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la vostra pillola settimanale di cinema da mandarci a tutta ad un fiato Quest'oggi per voi ho tre interessantissimi e importantissimi film, quindi aprite le orecchie E iniziamo con il primo titolo da non perdere Allied, un'ombra nascosta Si è parlato tanto, ma in realtà niente, di questo misterioso film come effetto collaterale della rottura dei Brangelina Con varie malelingue che hanno sospettato di una possibile relazione tra Brad e la sua collega di scena Marion Cotillard Però sto film ha a fine della fiera, ma di che si tratta? Racconta la storia dell'ufficiale dei servizi segreti Max Button Che nel 1942 incontra nel Nord Africa la combattente della resistenza francese Marie-Anne Bézajot In una missione mortale oltre la linea nemica Riuniti si a Londra, la loro relazione è minacciata dalle estreme pressioni che la guerra impone loro Passione e tormento Mi sa che ci piace A fianco a Brad e Marion anche Lizzie Kaplan, Matthew Goode e Jared Harris Mentre la regia è affidata a Robert Zemeckis Che adesso io non so chi rappresenti per voi Ma per me è chiaramente l'uomo che ha girato la migliore trilogia al mondo Ritorno al futuro Continuiamo con un'altra attesa imperdibile pellicola Ovvero Silence, il ritorno alla regia di Martin Scorsese Che non ha certo bisogno che io lo presenti Io poi Abbiamo citato questa pellicola proprio nell'ultimo ficcanaso A proposito di uno dei suoi protagonisti Ovvero Andrew Garfield Accanto al quale reciteranno anche Liam Neeson E Adam Driver O Driver Io ancora non ho capito sta cosa La storia è ambientata nel XVII secolo E si racconterà di due preti gesuiti Che affrontano violenza e persecuzione Quando si recano in Giappone Per rintracciare il loro mentore E aiutarlo a convertire la gente al cristianesimo Cristianesimo Azza tosta Martin non ci lascia mai senza mordente nei suoi film L'avete visto il ficcanaso su Andrew Garfield? Allora muovetevi Sbrigatevi E infine il terzo e accattivantissimo titolo è The Founder Da John Lee Hancock Già regista di The Blind Side E Saving Mr. Banks Arriva la storia del fondatore di una delle multinazionali più famose al mondo McDonald's Come si può creare uno dei più grandi imperi economici A partire da un semplice hamburger? Per rispondere occorre scoprire la vera storia di Ray Kroc Imprenditore statunitense meglio noto come il fondatore della catena miliardaria McDonald's Luce d'ombre, ambizione e ostacoli Per la storia di quello che oggi è considerato un guru dell'imprenditoria Prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg Che darà il volto al magnate del frittume Ma l'affascinantissimo Michael Keaton Che ultimamente è decisamente ritornato in auge Interessante In chiusura vi segnalo rapidamente Nebbia in agosto Ambientato nella Germania degli anni 40 È la storia di un bambino molto speciale Che aiuta gli altri pazienti dell'unità psichiatrica in cui è stato confinato E pianifica una rapida fuga Allora Questa settimana io non so cosa scegliere Voi che cosa sceglierete? Fatemelo sapere in un commento qui sotto Mentre io vi invito a passare sulla pagina di screenweek.it Per non perdere nessuna cine news E a scaricare le app gratuite Screen Week TV e Screen Week Blog Per non perdere i nostri contenuti ovunque voi siate Io sono Violetta E mi trovate su tutti i social e su YouTube Come Violetta Rocks O su www.violetta.rocks E ai prossimi appuntamenti Ciao 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 Grazie per la visione!